Beh, straordinario, è con questa partita una conclusione di un anno straordinario che ha andato ben oltre le previsioni, questo è tutto il merito dei ragazzi, dell'allenatore, della coesione ci meritavamo oggi, per me oggi è una partita vinta, al di là del tre pari perché abbiamo dominato, puoi fare tre gol straordinari, il primo di Cassano, il secondo di Maggio poi quello di Montella, mentre la Juventus ha fatto due gol sul rigore, per questo la sento e tutti la sentiamo come una partita vinta Meglio non si poteva concludere, lo stadio era gremito, straordinario entusiasmo, sostegno e questo è il nostro valore in più, una tifoseria sempre vicina comunque vada certo oggi la felicità era di tutti ed è stata espressa, il grande merito, il riconoscimento del merito c'è stato hanno dato i brividi, le innumerevole azioni, diverse azioni avrei potuto portare in gol e poi con l'inno europeo è stato un momento molto toccante Ora vedremo quali eventuali aggiunte, quale modifiche fare però quello che è l'obiettivo è mantenere una squadra, una Sampdoria forte che possa affrontare l'UEFA e possa affrontare il campionato nello stesso modo come ha svolto questo, soprattutto nel secondo girono e a volte per una battuta che può essere portata in un momento così teniamo presente la tensione di tutti, soprattutto chi lavora per preparare dei ragazzi e così via e quindi dopo un anno di grande impegno, faticoso poi è bastato un paio di settimane fa una dichiarazione che è diventato un caso perché naturalmente, capisco, i media si buttano su queste cose ma quando poi le cose si affrontano con serenità anche quelli che sembrano un problema irrisvolvibile come alcuni hanno detto, si possono risolvere con soddisfazione di tutti